Buonasera, buonasera anche dal TGN. Benvenuti a questa edizione. Ovviamente apriamo sempre purtroppo con il caro Energia, che è il caro bollette perché spaventa sempre di più sia i cittadini sia le istituzioni. Oggi il presidente della regione Lombardia Fontana ha lanciato un allarme che riguarda le RSA e chiede al governo di intervenire in fretta, mentre il sindaco di Milano, Beppe Sala, propone delle idee perché le istituzioni, l'istituzione comunale, gli uffici pubblici possano risparmiare. Sentiamoli. Le RSA, che sono una realtà essenziale per il nostro territorio, hanno già detto che con questi aumenti non riescono a stare in piedi, non ce la fanno. Ma noi con gli ospedali, noi ce la facciamo stare in piedi, però è chiaro che siamo arrivati anche noi in una situazione di inizio di difficoltà. Dobbiamo cercare di fare in modo che il governo e l'Europa intervengano in maniera drastica. Ormai è chiaro che è un problema che esiste, dal quale aspettando non se ne uscirà. Dobbiamo intervenire, dobbiamo fare in modo che la forza dell'Europa possa essere colei che dirige le scelte del futuro. È immaginabile che il weekend si prolunghi avendo garanzie che si lavora bene da casa con compiti ben prestabiliti e qui lo smart working ci ha aiutato al venerdì o al lunedì. Ovviamente è meglio chiudere un giorno e quel giorno magari non può essere mercoledì, perché se chiudi mercoledì spegne gli scaldamenti martedì sera, poi se è costretto a riaccenderli a metà pomeriggio o mercoledì è risparmiato nulla. Lo stesso meccanismo però riguarderebbe un'idea lanciata dalla Martina Rava, l'assessora allo sport, che propone di chiudere le piscine al mattino per aprire il pomeriggio e così altri impianti di Milano Sport. Però il ragionamento che ha fatto il sindaco Sala vale anche per le piscine se si accendono e si spengono tutti i giorni il risparmio viene a cadere. Quindi credo che l'ipotesi di Martina Riva venga a cadere. Ma sul problema dell'energia e sulle fonti alternative, su cosa programmare per il futuro, ha parlato anche il rettore del Politecnico Ferruccio Resta. Sentiamo le sue opinioni. Il sistema dell'energia è un tema che si può affrontare su diversa scala, locale e globale, sul breve termine e sul medio termine. Sul lungo termine due sono le soluzioni, diversificare le fonti e diversificare i fornitori, quello che il governo Draghi ha fatto negli ultimi mesi. E quindi questo è un processo che va pazientemente con determinazione continuato in una e nelle altre direzioni. Fonte rinnovabile, nucleare, rigenerazione e recupero. Naturalmente poi servono delle soluzioni anche sul breve termine perché il cittadino, l'impresa, il commerciante ha bisogno oggi di passare l'inverno. E queste naturalmente si stanno sviluppando con delle logiche sui comportamenti, avendo però un'idea di impatto, cioè capire quanto permetterà di risparmiare sulla bolletta il singolo comportamento ed è quello che stiamo cominciando a lavorare anche qui col Comune di Milano e a due anni. Quindi le proposte appunto per risparmiare. C'è un problema che riguarda gli inquilini delle case popolari, le case Aler, che anche avendo limitate possibilità economiche si vedranno in ogni caso aumentare le bollette. E dalla Regione Lombardia arrivano 23,8 milioni di euro destinati appunto agli inquilini in difficoltà. I contributi di solidarietà erogati a Comuni Aler serviranno a sostenere le spese, in particolare legate alle bollette. Si tratta, ha commentato l'assessore alla Casa della Regione Lombardia, Alan Rizzi, di uno sforzo molto significativo per il bilancio regionale in un momento di difficoltà generale per la nostra economia. E fondamentale, ha aggiunto, che le risorse siano utilizzate tempestivamente e integralmente da Comuni Aler per alleviare le difficoltà dei propri inquilini, che in alcuni casi stanno già subendo gli aumenti generalizzati dei costi dell'energia. Queste le parole di Alan Rizzi, nello specifico alle Aler sono stati destinati 13 milioni di euro, mentre i Comuni avranno in totale 10,8 milioni di euro. Ora la pagina dedicata alla cronaca. È stata sgominata un'associazione per delinquere dedita al traffico di droga e anche armi. Tra gli arrestati della Guardia di Finanza anche Franco Terlizzi, ex pugile e partecipante all'Isola dei Famosi, che avrebbe fatto da prestanome all'indagato principale, figlio di Pepe Flachi, il cosiddetto il boss della Comasina. Vediamo. Tra le 13 persone fermate dalla Guardia di Finanza di Milano e Pavia ci sono Davide Flachi e Franco Terlizzi. Il primo è il figlio dello storico esponente dell'andrangheta, Pepe Flachi, morto lo scorso gennaio, che era soprannominato il boss della Comasina e di Bruzzano. L'erede di Pepe Flachi era capo di una banda dedita al traffico di droga, cocaina, hashish, marijuana e armi, che è stata sgominata oggi al termine dell'operazione coordinata dalla DDA milanese. Il secondo è un pugile, già PR di una nota discoteca milanese, diventato famoso per aver partecipato all'Isola dei Famosi e per essere il personal trainer di numerosi VIP. Terlizzi, secondo gli inquirenti, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi. Le indagini hanno permesso di ricostruire i flussi di denaro, individuare come una carrozzeria utilizzata dagli indagati anche per la riparazione di auto a danno di istituti assicurativi e un negozio di articoli sportivi nella provincia di Milano e formalmente intestati ad altri soggetti fossero in realtà riconducibili all'indagato principale, cioè Davide Flachi. Le indagini hanno consentito di ricostruire le rotte dello stupefacente con sequesti effettuati anche nel territorio svizzero, episodi estorsivi nei confronti di chi non pagava e sono stati rinvenuti anche mitragliatori Kalashnikov. L'accusa, carico dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe assicurative su finti incidenti di auto e anche trasferimento fraudolento di valori. In particolare, come si legge negli atti, l'ex pugile avrebbe procacciato i clienti per la maggior parte delle frodi assicurative messe a segno dalla banda di Davide Flachi. E c'è stato un inseguimento da film. Questa mattina a Milano una BMW con targa straniera non si è fermata all'alta dei carabinieri per un controllo in Viale Certosa. È partita verso il tunnel di via Gattamelata inseguita dai militari, centrando tre auto e infine ribaltandosi. Gli occupanti, dopo una breve colluttazione con i militari, hanno provato a scappare a piedi. Tre sono stati fermati anche grazie all'arrivo di ulteriori pattuglie, mentre uno è ancora ricercato. I tre senza documenti sono stati portati in caserma dove si lavora per risalire alla loro identità e al motivo per cui non si sono fermati all'alta dei carabinieri. Per ora, nell'auto che vedete nelle immagini, non è stato trovato nulla che possa far capire il motivo per cui sono scappati, dando vita all'inseguimento con carambola finale. Ecco, questo è il tunnel di via Gattamelata dove è stata recuperata l'auto. Due dei fermati e un carabiniere del reparto radiomobile, intervenuto insieme ai colleghi della compagnia Milano Duomo, sono stati curati sul posto dai sanitari. Ora la sanità arriva al nuovo vaccino anticovid che protegge anche dalla variante Omicron 1. L'AIFA infatti ha dato parere positivo. Adesso il Ministro della Salute dovrà stabilire se ci sarà l'obbligo e quale categorie dovranno effettuare la nuova vaccinazione. Sentiamo Alberto Carreras. Adesso c'è il via libera anche dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ai nuovi vaccini anticovid aggiornati con la variante Omicron 1. Per il momento non si parla di nuove dosi ma solo di rivaccinazione. I vaccini sono Pfizer-BioNTech e Moderna e potranno essere vaccinate tutte le persone sopra i 12 anni. Il nuovo vaccino è particolarmente raccomandato agli over 60 e ai fragili che rischiano eventuali conseguenze gravi. Va detto che la quarta dose non ha avuto molto successo. Sino ad ora sono stati poco più di 3 milioni gli ultra sessantenni che hanno effettuato la quarta dose, poco più del 5% della popolazione. Il nuovo vaccino invece è bivalente, contiene due ceppi del SARS-CoV-2, quello originale e la variante Omicron 1. Successivamente arriveranno anche gli aggiornamenti Omicron 4 e 5, ma per questo vaccino bisognerà attendere ancora parecchi mesi, mentre quello con la variante Omicron 1 sarà disponibile tra poco. Bisognerà vedere adesso cosa deciderà il Ministero della Salute, quali categorie accederanno a questo nuovo preparato oppure se verrà destinato all'intera popolazione over 12. Sicuramente ci saranno i sanitari, gli over 60 e le categorie a rischio. Ricordiamo che per effettuare la vaccinazione devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultimo vaccino effettuato. Adesso vediamo i dati, con 31.983 tamponi effettuati e di 3.980 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è del 12,4%. Ci sono 6 persone in meno nei ricoveri ordinari e una in più nella terapia intensiva, mentre i decessi sono 13. Ora parliamo di riciclo e di rifiuti perché 570.000 tonnellate di carta e di cartone sono state riciclate dai Lombardi nel 2021. La Lombardia è sempre una regione molto virtuosa per quanto riguarda appunto il riciclo. Ogni cittadino della Lombardia ha riciclato oltre 57 kg in un anno e i dati emergono dal rapporto annuale sulla raccolta differenziata. Nel 2021 in Lombardia sono state raccolte e riciclate più di 570.000 tonnellate di carta e cartone con un incremento di 5.900 tonnellate rispetto al 2020. Lo sostiene il 27esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia presentato da Comieco. Nonostante i cambiamenti dovuti a stop e ripartenze nell'ultima fase della pandemia ogni cittadino della Lombardia ha differenziato 57,5 kg durante l'anno, media pro capite molto vicino a quella nazionale di 60 kg per abitante ogni anno. Nonostante le difficili condizioni del 2021 la Lombardia con oltre 572.000 tonnellate rappresenta da sola circa il 16% di tutta la raccolta comunale di carta e cartone del paese, ha detto Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco e questo testimonia il grande impegno e l'attenzione per l'ambiente che da sempre anima uno dei bacini più virtuosi del paese. Può tuttavia ancora migliorare dal punto di vista del livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti che si attesta al 12,1%. Durante il 2021 Comieco ha gestito direttamente 405.500 tonnellate di carta e cartone pari al 70,8% del totale della raccolta. Sono state raccolte in provincia di Milano 181.000 tonnellate, nella provincia di Bergamo oltre 71.000, in quella di Brescia 85.000. Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 9 settembre dalle 9 alle 17 di macchinisti e capitreno di Trenitalia Italo-Trenord, Trenitalia-Tipera. A proclamare la protesta sono stati unitariamente i sindacati confederali più l'UGL e l'ORSA per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Questa è la motivazione dello sciopero. Il Gran Premio del centenario dell'Autodromo nazionale Monza sarà un successo di pubblico senza precedenti. A confermarlo durante la conferenza stampa di presentazione del Formula 1 Gran Premio d'Italia 2022 è stato il presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani che ha annunciato anche la presenza in tribuna domenica del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma sentiamo il presidente dell'Autodromo e il numero uno dell'ACI di Milano. Il numero di pubblico sarà sicuramente da record perché i posti ancora vendibili sono veramente pochissimi. Di fatto diciamo sold out anche se qualche cosa ancora in sede di riconferme, di riaggiustamenti con le agenzie eccetera di giorno in giorno si manifesta disponibile. Però parliamo veramente di numeri molto 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 piccoli come disponibilità dissidua. Quindi è realistico credere che tra pubblico, addetti ai lavori e personale di servizio nell'ambito dei tre giorni si raggiunga la soglia di quasi 350 mila presenze. L'Automobile Club di Milano cento anni fa ha fortemente voluto realizzare qua l'Autodromo nazionale in Monza e per altri cento anni e più continuerà a difenderlo. Una grande gioia avere un record di pubblico, veramente tantissime le persone che vogliono venire a Monza perché Monza è il motorismo italiano e quindi una grande eccellenza nel mondo. Quanti biglietti sono stati già venduti per il weekend? Tutti e quasi di più. Siamo oltre 350 mila presenze nel weekend. Quindi qualche altra tipona avrebbe fatto anche un po' comodo? Guarda, ormai anche in piedi sulle spalle. E c'è stata una polemica oggi per quanto riguarda Milano Cortina. Sul blog di Beppe Grillo compare questo pensiero. Dalle all'empie di Green sostenibile presentato in occasione della candidatura Milano Cortina si è assistito a tutta una serie di legge, decreti legge, di finanziamento e rifinanziamento dei giochi che a tutt'oggi hanno portato l'importo economico a carico dello Stato ad oltre 2 miliardi di euro e con il progressivo arretramento del contributo degli sponsor privati. Quindi dice Grillo che il costo graverà tutto sullo Stato e a questo è andato a sommarsi un progressivo ampliarsi degli interventi di cementificazione. Questo quindi le definisce Grillo Cortina Olimpiadi del cemento. Ha risposto subito il sindaco di Milano Beppe Sala che ha detto Grillo è un amico e penso che tra un po' di anni si pentirà come si è già pentito di Expo. Grillo è un po' così, dopodiché ognuno la vede a modo suo. In ogni caso non c'è tanto cemento, tanto è vero che proprio l'idea di fare queste Olimpiadi diffuse nasce dal fatto di evitare di costruire troppo. Al flusso di turisti a Milano in grande crescita nel 2022, i numeri nel complesso sono addirittura superiori al periodo pre-Covid. Sentiamo Michele Lanati. Boom di turisti a Milano nel 2022. I numeri sono cresciuti di mese in mese, superando i livelli pre-Covid. In particolare a luglio sono state registrate quasi 700.000 presenze in città, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2019. In quel caso gli ingressi nel capoluogo Lombardo erano stati 652.000. Anche ad agosto l'afflusso di turisti è stato impressionante. Numeri spiegabili in parte con la sostanziale fine delle restrizioni, che ha favorito in generale la circolazione delle persone. Poi la presenza di molti grandi eventi e congressi ha sicuramente influito. Milano ha dimostrato di essere una città particolarmente attraente per i giovani. A frequentare il capoluogo Lombardo però sono soprattutto turisti italiani, circa il 70% del totale. Un dato questo in controtendenza rispetto al 2019, quando gli stranieri erano quasi il 40%. La presenza di persone provenienti dagli altri paesi resta comunque significativa. Il flusso segna in particolare un notevole incremento di cittadini americani e indiani, mentre si è notevolmente ridotto l'arrivo di russi e cinesi. I dati in generale sono molto positivi e salutati ovviamente con piacere, a margine della presentazione del Gran Premio di Monza, anche dal sindaco Beppe Sala. Settembre è un mese sempre importante e delicato per Milano. parte con questo evento, poi c'è la moda. In un momento in cui, nonostante le grandi difficoltà che tutte le città stanno vivendo, l'attrattività e la reputazione di Milano è sempre molto forte. Abbiamo avuto luglio-agosto con un boom di turismo anche un po' inaspettato. A proposito del momento difficile che stiamo vivendo, abbiamo aperto questo telegiornale con la proposta di Sala, di chiudere gli uffici comunali per un giorno alla settimana per risparmiare. C'è il Partito Democratico che chiede alla Regione Lombardia di contribuire ai costi, dicendo anche la Regione Lombardia degli extra profitti dovuti all'aumento del costo dell'energia. Nel 2022 montano a 33 milioni. Ciò che resta nelle casse regionali di queste risorse, dice il Partito Democratico, deve essere utilizzato per alleviare le bollette di famiglie, piccole e medie imprese e quindi anche la Regione Lombardia faccia la sua parte. Questa è la proposta del Partito Democratico. Cambiamo argomento, nasce a Milano l'ecosistema della tecnologia e dell'innovazione sostenibile. Le quattro maggiori università milanesi sono già al lavoro per dare un nuovo volto alla città. La collaborazione tra Milano Bicocca, il Politecnico, la Bocconi e la Statale porta il nome di Musa e consentirà di sviluppare soluzioni smart per l'energia rinnovabile e per la gestione dei rifiuti. Vediamo. Se tutto è un'iniziativa che pone insieme università, enti pubblici come Comune Regione Lombardia, privati e davvero insieme ai cittadini sono i motori del cambiamento del nostro paese. Quindi questa è la prima chiave di lettura. I temi che affrontiamo in questo progetto sono i temi delle sfide del domani, quindi la transizione non soltanto con l'ecologica e ambientale, la quale possiamo pensare immediatamente, ma anche l'efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sanità, digitalizzazione e inclusione sociale. Ed è importantissimo perché raduna alcune tra le principali università milanesi. La ricerca, il progresso e l'evoluzione partono in grande misura dalle università e non è solo un problema di gestione dell'università, di didattica, ma anche la forza degli studenti. 200.000 studenti universitari a Milano sono una grande garanzia per il futuro della nostra città. Io credo in tutta la Lombardia che ci siano già le condizioni, credo una delle ragioni principali è che anche a livello legislativo noi siamo molto avanti, abbiamo fatto delle nuove normative sulla ricerca, come dicevo adesso, sulla rigenerazione urbana, abbiamo introdotto tanti principi che vanno nella direzione della sostenibilità. Era l'ultimo servizio, vi lascio in compagnia del telegiornale sportivo, poi a seguire grande serata di calcio, di nuova stadio per il turno di Champions League. Debutta questa sera, debuttano Juventus e Milan, noi seguiremo in particolare la partita di Salisburgo contro Milan. Arrivederci. Grazie.